un ciao a tutti i miei amici ascoltatori di italiano in podcast e come sempre un benvenuti benvenuti a una nuova puntata un nuovo appuntamento con questo podcast quotidiano che ormai ha 560 puntate questa è la puntata numero 560 infatti e questo è l'episodio di giovedì 22 settembre 2022 quindi primo giorno di autunno ma diciamo che è ancora uguale a ieri quindi è ancora estate non è ancora arrivato l'autunno per il momento e speriamo non arrivi ancora per qualche settimana intanto voglio chiedere scusa perché ho pubblicato il podcast del 21 settembre con grandissimo ritardo oggi praticamente la sera ma è stata una giornata molto piena con diversi impegni e davvero non ho trovato molto spazio per fare queste piccole correzioni questi piccoli miglioramenti che faccio al file di solito al file alla registrazione ecco quindi togliere un po' qualche rumore aumentare un po' il volume piccole cose che però richiedono un po' di tempo come anche la pubblicazione del podcast insomma devo fare alcune operazioni molto spesso scrivo un commento all'episodio ieri non l'ho fatto perché il tempo non era sufficiente e anche perché ero molto in ritardo quindi mi dispiace se il podcast è arrivato praticamente alla fine di questa giornata e ora dopo poche ore registro l'episodio nuovo non penso sia troppo grave però insomma non è molto professionale ecco poi la seconda osservazione che volevo fare che probabilmente è possibile non è sicuro che domani quindi venerdì non ci sia un podcast per qualche piccolo impegno che è possibile che io abbia quindi probabilmente ecco c'è questa possibilità ma ovviamente io spero di riuscire a fare il podcast anche domani se non lo trovate è perché c'è stato qualche impegno un po' più urgente e importante bene come ho detto primo giorno di autunno ma ancora sembra estate ma cambia la stagione e non cambia però il nostro programma oggi provo a registrare senza interruzioni qualche piccolo rumore ve lo tenete qualche treno forse se non è troppo forte ve lo terrete anche se qualcuno continua a dirmi ma io il treno non lo sento quando lo dici quindi questo è un buon segno vabbè ma come dicevo eccolo sta passando non so se lo sentite ma ve lo lascio vi lascio il treno non so se è stato possibile ascoltarlo quindi dicevo giornata piena quindi nonostante cambi di stagione il nostro programma non cambia siamo qui per lavorare sul vostro italiano un po' di ascolto e di comprensione con queste poche cose che vi racconto in questi circa 30 minuti in cui sono insieme a voi sono sicuro che faremo un buon lavoro anche oggi e anche oggi il vostro italiano insomma migliorerà un po' di più bene prima di cominciare però come sempre il consiglio oggi veloce intanto è fallito il mio tentativo di non fermare la registrazione c'è stato un treno un po' troppo rumorosa quindi mi sono dovuto fermare il mio studio stanzino studio barra stanzino non poteva impedire a questo rumore di entrare quindi è stato necessario fermarmi come dicevo però il mio consiglio ok veloce oggi posto tranquillo momento rilassante nessun rumore o almeno pochi rumori piacevoli nessuna persona fastidiosa niente lavoro solo italiano concentratevi sulla mia voce seguitela prendetevi l'italiano che provo a darvi ogni giorno se vi sfugge qualcosa nessun problema tornate indietro dopo quando avete finito il primo ascolto e provate a riempire questi buchi o a cercare di completare insomma l'ascolto con le cose che mancano tutto questo vi aiuterà a memorizzare meglio queste nuove questo nuovo italiano ecco quindi questo è il mio consiglio vanno alle chiacchiere vediamo un po' questa giornata com'è andata questo giovedì 22 settembre niente bagno purtroppo niente tuffo quindi anche se la giornata è stata molto bella e anche calda all'ora di pranzo c'erano forse 28 gradi 29 gradi sono sicuro che il mare fosse buono perfetto anche oggi ma purtroppo diversi impegni insomma mi hanno impedito di trovare il tempo per un tuffo prima di tutto una breve spesa come sempre al giovedì mattina poi dopo questa veloce spesa due lezioni una dopo l'altra praticamente quindi un paio d'ore buone lezioni sono molto soddisfatto sono state direi davvero ottime e poi ancora una piccola spesa una breve pausa insomma e la mia chiacchierata settimanale che è tornata questa settimana con Angela il mio scambio di lingue e giovedì è un appuntamento rilassante e divertente e anche utile per il suo italiano il mio inglese continua a non migliorare scherzo no Angela mi aiuta molto con l'inglese e sì mi piace molto esercitarmi con lei è divertente sempre molto divertente e infatti ieri è stato molto divertente e rilassante ma purtroppo però dopo un buon tempo di lavoro e di rilassamento con lei un pranzo veloce leggero, veloce e poi sono dovuto uscire molto presto un po' prima delle tre per andare dal commercialista che è anche mio cugino quindi è anche un amico ovviamente che mi ha aiutato a sistemare queste questioni con le tasse questa dichiarazione dei redditi così si chiama questo modello questo modulo che si compila si compila su internet in realtà non è complesso come nel passato ma nel caso di mia madre preferisco far controllare a lui che è esperto la situazione c'era qualche piccola qualche piccolo dubbio lo abbiamo risolto insieme su come dichiarare alcune cose e poi ovviamente non sono scappato via ci siamo presi un caffè nel suo ufficio abbiamo fatto quattro chiacchiere e quindi diciamo che la prima parte del pomeriggio è andata via con questo impegno che però mi ha fatto piacere insomma questa epoca di pandemia ha ridotto i nostri incontri e quindi mi ha fatto piacere chiacchierare con lui e le altre persone che lavorano nello studio sono tutti amici e conosco bene quindi è sempre un piacere fermarmi da loro per quattro chiacchiere anche e spero di farlo ancora di andarli a trovare in altre occasioni più spesso ecco e di solito faccio una passeggiata quando ho tempo per per vedere questo mondo che è un mondo caotico i commercialisti italiani sono tutti sull'orlo cioè sul punto di avere un esaurimento nervoso perché qui in Italia queste leggi cambiano in continuazione qualche volta vuoi a dormire con una legge e ti svegli al mattino con una legge diversa quindi fanno davvero una vita molto stressante tra i clienti che non vogliono pagare le tasse il governo che cambia le leggi ogni 5 minuti forse sono davvero una fanno davvero un lavoro insomma che può essere molto stressante e tutto sommato insomma impediscono anche qualche ribellione di massa contro il governo perché sono loro a a far sfogare insomma i clienti quando sono arrabbiati e non il governo ecco se la prendono con i commercialisti vabbè comunque ho incontrato queste persone in realtà sono due i miei cugini che lavorano in questo studio sono fratelli e sono tutti e due miei cari amici oltre che parenti perché le due cose spesso non coincidono a volte i parenti non sono amici sono solo parenti ecco ma in questo caso no siamo buoni amici da da bambini si da bambini sin da bambini finita questa questa pratica così diciamo noi quindi completato questo lavoro finalmente sono rientrato velocemente a casa perché ero in ritardo per parlare con Michael e anche questa è stata una buona conversazione una buona lezione poi ho fatto quattro ghiacchiene anche con Rob e infine più o meno alle sette di sera si è liberato un po' di tempo per la serata che mi ha permesso di respirare un po' non ho pubblicato subito il podcast però perché prima ho voluto fare la mia corsa corta più veloce contro il solito arci nemico no era lo stesso sempre un un passo di 5 minuti e 20 ho dimenticato di cercarmi un nuovo nemico ma ma andava bene per oggi non è stato male e sui 5 chilometri non c'è storia l'ho battuto già sui 10 ma sui 5 sono troppo più veloce di lui ho corso in con un passo di 5 minuti e 5 secondi quindi vicinissimo ai 5 minuti che mi servono per per raggiungere il mio obiettivo ma sono 5 chilometri però 10 chilometri sono il doppio quindi c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere il mio obiettivo spero di farlo presto ma siamo sulla strada sono sulla strada giusta il mio stato di forma sembra molto buono e anche il lavoro che ho fatto credo che sia quello giusto nel fine settimana probabilmente farò una corsa lunga per avere un po' di resistenza in più spero che quello che io dico abbia senso per gli amici i corridori esperti che sono davvero bravi a correre ma questa è un po' la mia idea insomma vi farò sapere ovviamente quando questo record sarà battuto questo mio record personale e ovviamente ve lo faccio sapere perché sarò molto contento di questo ma per ora c'è da lavorare ancora un po' un po' non troppo credo che non manchi molto al raggiungimento di questo obiettivo non un fisserò un giorno per farlo semplicemente inizierò a correre ogni volta e sentirò quello che dice il mio corpo se il mio corpo ha questo passo e ha questa capacità lo farà da solo non sarò io a fissare un giorno per riuscire a fare questo tentativo quando partirò nella corsa il mio corpo seguirà il suo istinto e io lo lascerò andare forse lo aiuterò solo un po' alla fine quando bisogna correre più forte a perdi fiato cercherò di farlo correre anche se vuole smettere ma davvero non ho un giorno in mente succederà quando è il momento giusto come è sempre stato per le altre corse ecco basta con la corsa non vi annoierò più con questo ma semplicemente la serata poi è passata tra una cena abbastanza buona ma leggera cibi freddi sempre e poi un'ultima conversazione con Joe che è stato il mio primo studente molto tempo fa e con cui è sempre un piacere chiacchierare quando quando è possibile e infatti anche ieri è stata una ottima conversazione anche se il suo italiano è un po' arrugginito in questi ultimi tempi ma va bene è ancora buono è ancora di buona qualità tutta qui la mia giornata come vi ho detto è stata piena in quasi tutte le sue parti ma non è stata però complicata o complessa o difficile da spiegare come avete visto anzi direi che è più corretto dire come avete sentito visto che ve l'ho raccontato e non l'avete visto con i vostri occhi ma comunque tutto qui dicevo e continuo ad avere questa sensazione di parlare un po' troppo veloce vi prego davvero di darvi darmi una vostra opinione è fallito più di una volta il tentativo di non interrompere la registrazione ma va bene lo stesso fatemi sapere anche se riuscite a capire dove si è interrotta la registrazione comunque andiamo avanti con il programma le notizie questo era un messaggio una vibrazione più forte delle altre una notifica un po' troppe in realtà questa mattina ma va bene così dai anche oggi non mi sento di aver fatto un buon lavoro ma vediamo le notizie di oggi ecco beh una notizia anche se sono quattro è l'unica che vi do e si può riassumere così in Italia la terra trema oppure se volete se io fossi un giornalista scriverei come titolo lo stivale trema chissà forse anche il terreno anche il nostro territorio è un po' stanco di comizi elettorali e di politica è un po' nervoso e agitato e quindi ha cominciato a tremare ovviamente non sono eventi collegati dicono gli esperti ma ha tremato in quattro punti completamente diversi ha tremato infatti ad Ascoli a Piceno quindi poi dopo ha tremato in Liguria e in Sicilia vicino Genova e in Sicilia nella zona dell'Etna mi pare o comunque credo che questo sia un sisma collegato all'Etna in qualche modo a questa zona ovviamente vulcanica del nostro paese e poi ha tremato anche a Modena nella zona di Modena le scosse non sono state forti tra il 3,6 sulla scala Richter 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 e i 4,1 che si è raggiunto in Liguria un 3,9 mi pare fosse quello in ad Ascoli Piceno aspettate che guardo un attimo non è professionale ma lo faccio lo stesso ecco 3,9 nelle Marche poi c'è stato 4,1 in Liguria un 3,6 in Sicilia e a Modena beh forse era un 3,8 sì no 3,8 4 terremoti nello stesso giorno non distruttivi ovviamente ma di una buona intensità in 4 zone completamente diverse del paese qualcuno ha insomma ha cominciato a parlare di un evento che riguarda tutto il paese ma gli esperti hanno detto state calmi è una coincidenza i terremoti sono troppo distanti per essere collegati non sono un esperto non so dirvi se questo sia sempre vero o no ma comunque tendo anzi direi che mi fido in questo caso degli esperti degli scienziati che che ci dicono che non c'è non c'è un nesso un nesso vuol dire un collegamento una sì un rapporto insomma tra questi un collegamento è meglio un collegamento tra questi eventi sono eventi separati causati probabilmente da anzi sicuramente da cause diverse e quindi sono zone sismiche diverse del paese questa è l'unica notizia lo stivale trema e speriamo che non tremi troppo o che non tremi dalle mie parti anche sono egoista ma io non sono troppo lontano dal vesuvio quindi spero che non succeda niente anche vicino al mio vulcano quello più vicino a me comunque in generale anche con la terra che ha tremato è stata una buona giornata anche se impegnata e con poco tempo ecco vediamo per chiudere e poi basta così perché questo episodio mi sembra non migliorare ma peggiorare vediamo il nostro aforisma di oggi che ho scelto perché ho visto fare qualcosa di strano al mio Gerry ha avuto un comportamento un po' particolare durante la giornata era più come posso dire più esigente del solito aveva più voglia di stare in casa del solito e continuava a cercare le persone questo è un po' strano lo fa è un gatto che ama stare anche con le persone ma non troppo però come me vuole stare anche un po' da solo qualche volta durante il giorno ma ieri invece aveva questa strana attitudine a cercare di stare in casa e a cercare la vicinanza con le persone quindi ho trovato un buon aforisma su questi animali un po' misteriosi che fanno sempre quello che vogliono e oggi vi leggo questo aforisma scoprite voi l'autore o l'attrice contemporaneo un personaggio contemporaneo molto famoso molto conosciuto in Italia è anche molto importante e lui ha detto sui gatti questo io non mi meraviglio affatto quando il gatto fa qualcosa di misterioso mi meraviglio quando fa cose normali e credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro tutti quelli che possiedono un gatto sanno bene che sono animali molto particolari che sicuramente fanno quello che vogliono qualche volta sembra anche strano ma comunque sono anche capaci di farci sorridere insomma di farci incuriosire ecco quindi sono sicuramente una buona presenza intorno a noi bene poi vi racconterò un'altra storia sui gatti che riguarda la mia famiglia prima un altro giorno però non oggi bene con questo è tutto con l'aforisma sui gatti è tutto scoprite voi chi l'ha detto chiudiamo questo episodio un po' forse non al meglio non dei migliori ma chiudiamo il nostro episodio numero 560 del primo giorno di autunno di questo 2022 vi ringrazio per avermi ascoltato come sempre vi invito a scrivermi sempre a parlarmi delle vostre opinioni sul progetto su tutto podcast blog qualunque aspetto le mie magliette le mie tazze il mio twitch che è un po' fermo i video su youtube che ancora non arrivano insomma scrivetemi tutti i vostri suggerimenti o pensieri e io sarò felice di leggere le vostre opinioni per ora però è tutto qui quindi io vi saluto vi invito ad ascoltarmi domani e ciao a tutti ciao a tutti